A voi all'Aeghe TG Express, continuitati territoriali, l'Aeghe Roma a Blue Air, intervento esplorativo per il centro residenziale Anzianz all'Aeghe. Mauro Pirisi desce alla presidenza della commissione controlli e garanzia, a crescita all'aeroporto di Cagliar, FUBAL, corso di arbitros all'Aeghe. Da oltre 20 anni ci prendiamo cura delle barche, lo facciamo bene e puoi portarla tranquillamente da noi. Per barche fino a 6 metri rimessaggio all'aperto a 400 euro l'anno, al coperto 750 euro l'anno. Boat Caravan Clinic, zona industriale San Marco, Alghero, via dell'economia. Buongiorno, ben trovati all'Aeghe TG Express, l'appuntamento di quotidiana con l'informazione del Aghero Channel. Salute gli amici catalans. La rotta aerea Aeghe Roma ha continuato i territoriali a gestire a giudicare e assaggiare la compagnia Blue Air, alla quale ha presentato l'unica offerta per la procedura d'emergenza attivare della regione di Vendras Passat, per quanto riguarda l'obbando per la destra giornalizzazione turistica in Saldegna. Volotea si è presentato per la strada l'Aeghe Madrid, Napoli e Venezia. Vuelinghi, l'Aeghe Balzerona, esigete per l'Aeghe Londra e Venezia. Arresti per Amsterdam e Parigi. La commissione giuricarora vengarà a nominare e, tra due settimane, valutarà la parte tecnica e economica delle offerte. Interventi finanziati al progetto per il Centro Residenziale Anzianze dell'Aeghe. Gestione contestuale, realizzazione delle opere di amodernamento, riqualificazione e posare a norma tutta la struttura. è l'obiettivo per il Centro. Il programma fa parte dell'avviso esplorativo pubblicato dell'amministrazione comunale che tratta la migliore modalità di collaborazione per riqualificare la struttura. Dopo aver annunciato l'adesione alla maggioranza, il capigruppo del PD al Consiglio Comunale Mimo Pirisi ha dato le dimissioni sulle vocabulari della Presidenza della Commissione Consigliare Controllo e Garanzia del Comune di Allie. Pirisi ha comunicato la sua decisione a Monaglietra avviare al Presidente del Consiglio Comunale Matteo Teve, al Segretario Comunale Canessa Lucca e per conoscenza al Sindicato Mario Bruno. Positivo l'aeroporto di Cagliari. Positivo 2017 è stato il miglior ottobre di sempre. 343.993 passaggi. Rispetto al mese dell'anno passato, il traffico è crescito del 15,25%. Sempre nel mese passato, gli passaggi internazionali sono stati del 28,5% mentre gli passaggi nazionali dell'11,7%. Ha aumentato anche il movimento aereo che arriva nel 2639, si arriva nel 14,3% in confronto al stesso periodo dell'anno passato. Ora vedo alla regia le citture in man diretta. Come te non c'è nessuno, è per questo che t'amo. La tua storia è unica, come te. Raccontala con i nuovi vasetti Nutella. Milioni di combinazioni diverse per parlare di te. Nutella, come te non c'è nessuno. La curiosità di voi. Il vostro bello è il carrello Marconi, e proprio la maschera di Keshapal, al numero 10 gli è la Sara Giuse Mano, Fondazione Giuse Siotto. È stato inaugurato il 22 di marzo del 2002. È una biblioteca storica. Il scopo è quello di coltivare gli studi e la divulgazione della storia della Sardegna. e favorire cari iniziativa e attività in connessione con la scopo. di ricerche, corsi, conveni, conselli e attività teatrali. A raccolti che a Keshapal darà una intervista con Ramon Filippo Oriol a storici delle tradizioni popolari cattarane. Per qualsiasi informazioni o informazioni vi vorrei contattarvi alla pagina Facebook del Giro Channel. Ora le previsioni del tempo e te demà i mos vellim a mos viure. Grazie a tutti!